Don Marco di Giorgio, parroco di Montecchio, compie 40 anni di sacerdozio. Per questa occasione le sue storiche parrocchie, oltre a quella attuale, hanno deciso di omaggiarlo con una cerimonia per poi intrattenersi con lui in una semi conviviale, un'occasione nella quale il Don ha ripercorso le tappe che lo hanno portato su questa strada. Io ho vissuto sempre praticamente in parrocchia San Giuseppe, una parrocchia molto viva. Allora nella mia giovinezza, avevamo fatto delle cose bellissime, campeggi, pellegrinaggi a Lourdes, azione cattolica, tante cose. Finito il liceo mi chiedevo cosa fare nella vita, che studi prendere e il sacerdote da cui allora mi andavo a confessare mi ha detto ma perché non pensi di entrare in seminario? Io ero molto incerto, sinceramente. Allora siamo andati insieme dal vescovo, allora Monsignor Gaetano Michetti, il quale mi disse una cosa molto bella, guarda ma tu se vuoi fai il seminario e studi teologia, però nel frattempo iscriviti anche a una facoltà universitaria non molto impegnativa perché non puoi frequentare più di tanto, no? A Urbino, così se vuoi fare il prete continui, se non vedi che non è, prendi l'altro treno e continui i tuoi studi. Così mi sono iscritto insieme ad altri due miei amici di classe, della mia classe del liceo, a Filosofia, a Urbino e quindi ho studiato tutti e due e a un certo punto però arrivato al terzo anno di seminario su cinque, dicevo beh qui bisogna deciderci cosa faccio però, arrivato al terzo anno e lì chiedevo al Signore un segno, dico dammi un segno, dammi un segno, ma sto segno non arrivava mai, allora sempre questo sacerdote da cui ho continuato ad andare a confessarmi mi ha detto ma tu prova a dire di sì, prova a dire va bene Signore se devo fare il prete, se mi chiami a questo dico di sì e poi vedi come ti senti, è come provare un vestito e vedere se ti sta stretto o ti sta bene e allora io ecco c'ho questo, quello spartiacque lì un po' che dopo il terzo anno di teologia, arrivato al quarto anno, io ho detto vabbè Signore se questa è la strada io ti dico di sì, se va bene, ecco mi ricordo che da quel momento ho avuto una pace, non so come, niente di straordinario però me le ricordo questi ultimi due anni molto gioiosi, molto belli, molto felici al che ho detto si vede che la strada è questa, così nel frattempo ho continuato anche filosofia, così dopo l'ho finita più tardi, però non era tanto lo studio quanto la scelta di vita e quindi ancora non mi sono stancato, un po' in questi anniversari si ripensa a tutto quello che è successo la strada che hai fatto e devo dire ma sono sommerso dalla gratitudine per tutte le, soprattutto per tutte le persone che ho incontrato, per tutte le esperienze bellissime che ho fatto, chiaramente come in ogni strada ci sono stati anche, non è che è tutto piano, ci sono stati anche dei momenti un po' difficili però i momenti difficili sono totalmente sovrastati dai ricordi meravigliosi di tante esperienze e le giornate mondiali della gioventù e tanti campeggi e i pellegrinaggi in terra santa ma anche a Lourdes, ma anche in altri posti e poi le parrocchie, le comunità parrocchie io ho girato ben cinque parrocchie, cinque comunità e quindi è stato, quindi tante persone, tanti volti, tante storie insomma è tanta gente che mi ha voluto bene e a cui io ho voluto bene e questo è proprio bello chi ha lasciato case, campi, fratelli e sorelle per me riceverà cento volte tanto ecco io ho visto che questa parola è vera, ho tantissimi fratelli, sorelle, amici, relazioni, case che mi ospitano pranzi che mi offrono, tante cose che non avrei mai penso avuto in un altro cammino ma soprattutto ecco la cosa fondamentale è proprio questa amicizia col Signore Gesù che ti fa dire io vengo, io vengo dietro a te